francesco pace bene sì sì no 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 è che non mi sono dimenticato è che però noi siamo pieni non sapevo come dirtelo cioè abbiamo tutti gli ospiti sì 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 è tutto a posto sì 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 no se vuoi venire a vedere a quell'ora dormi già no comunque grazie di aver pensato a me io sono lusingato onorato tutti noi delle elezioni italiane siamo lusingati ma sui social siamo veramente completi sì sì abbiamo influenze no non sto dicendo che tu sei un influencer tu sei molto di più di un influencer però ecco siamo ok va bene grazie tante amen